L'amministrazione comunale di Roseto ha in programma una seduta di consiglio comunale straordinaria per il gruppo Il Volo, gruppo che ha vinto Sanremo, conoscitissimo. Perché? Allora, giorno 8, sabato, quindi alle ore 20, noi celebriamo questo consiglio straordinario, deciso già a febbraio, quando i ragazzi hanno vinto Sanremo. In realtà avevamo già dato una targa, diciamo così, ai ragazzi del Volo, per i successi che loro avevano già in tutto il mondo, perché non dimentichiamo che loro sono diventati famosi prima nel mondo e poi con Sanremo anche in Italia. Ecco, quindi celebraremo questo consiglio, daremo la targa di ambasciatore del mondo a Gianluca Ginobble e daremo la cittadinanza onoraria anche agli altri due ragazzi del Volo e anche a Michele Torpedine, che è il loro impresario, comunque produttore. Quindi sarà una serata, come dire, all'insegna della gioia e sarà presente anche un giornalista di settore, un giornalista che si interessa anche di Sanremo, che è Marino Bartoletti, che per dimostrare il suo affetto a questo trio sarà presente e quindi farà un ringraziamento anche lui. Noi per consentire a tutta la cittadinanza di partecipare a questa manifestazione si celebrerà nella sala consigliare, ma avremo un maxischermo in piazza, proprio sotto la sala consigliare, e delle sedie per il pubblico che volesse intervenire. Quindi invito tutti i ragazzi giovani, ma anche meno giovani, perché i fan del trio Il Volo di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginobile, sono tantissimi, me compresa, peraltro. Quindi venite tutti e insieme li festeggeremo, perché poi loro chiaramente dopo il Consiglio Comunale, dopo aver ricevuto questo riconoscimento, incontreranno il pubblico e con loro faranno anche delle foto.